Allora eccoci pronti per partire per questa traversata sul cammino di San Tommaso, qui siamo a Tagliacozzo dove torneremo martedì col treno, l'obiettivo è raggiungere Ortone e farci il bagnetto, lo faremo in tre tappe, la prima sarà a Fonticchio, poi andremo verso la Maiella e dormiremo a Torre dei Passeri, dopodiché l'ultima tappa sarà appunto per Ortona, adesso è un giro molto bello, quasi tutto sterato, impegnativo perché si prevede di fare più di 2000 metri di slivello al giorno su circa 70 km, però vedremo anche cose bellissime, abbazie, castelli, insomma riprenderemo tutto, vi teneremo costantemente aggiornati con questo bel video. Allora davanti a noi il velino, eccolo là, bello eh? C'è una telecamera col microfono? Sì perché è più carino quando commenti, capito? Ecco come vedete si inizia a salire anche in maniera importante, sterrato, beh fino ad adesso la traccia è bellissima, eh sì, ecco qua, bella salitina ma non finirà rapidamente. Sì, ecco qua! la regola di proprio sotto qui madonna che bello che roba adesso qui c'è il pistolo bello però ci vuole il pistotto ragazzi questa deve essere il piacere andare in bici guardate che castelletto ragazzi eh sì molto un po' occhio alle bandierine i piani palentini questi giù da piedi quello è il velino questo colle che vediamo qui davanti appena piatto anche un po' incavato diet appena dietro c'è alba fucens dove andremo noi adesso facciamo questo colle qui sotto basso questo paese che invece vediamo lì in fondo è magliano dei marsi noi poi giriamo lì intorno quindi e poi andiamo ad alba fucens ma qui educazione alla challenge teodori è tutto qui si è scritto una pagina importantissima della storia d'italia cacchio anche quelli che vengono dal sud queste cose le devono sapere cioè dici cioè in pratica in questa proprio in questa pianura proprio dove vedete quel boschetto che adesso non c'è quasi più nulla ci sono però dei ruderi forse si intuiscono dei ruderi di una chiesa antichissima degli anni 70 del 1200 fatta costruire dagli angioini intitolata santa maria della vittoria perché lì carlo d'angiò riportò la famosa vittoria contro corradino di svevia poveretto poco più di svevo poco più che ventenne fu barbaramente trucidato ucciso a napoli corradino di svevia il quale si era veniva da nord col suo esercito si era accampato proprio dove marco e daniele hanno parcheggiato la macchina tagliacozzo poi ragazzi qui siamo oltre ragazzi poi da tagliacozzo ma pure sì perché te invece col microfonino da tagliacozzo mentre carlo d'angiò si era serragliato proprio col suo esercito appena dietro questo monte del di alba fucens corradino di svevia arrivò qua di mattina fu una vittoria come la lapidariamente descrive dante nell'inferno di là da tagliacozzo di là da tagliacozzo vuol dire che la battaglia non è la battaglia è ricordata come battaglia di tagliacozzo però in effetti noi abbiamo già fatto quasi 10 chilometri quindi ditemi voi quanto la devo fare lunga la batteria c'ho due batterie c'ho due batterie qui aggiornata di là da tagliacozzo dante stesso dice che fu una battaglia combattuta senza combattere senza armi perché fu una vittoria proprio schiacciante improvvisa ma in base proprio ad un prodigio tattico dei ghiangioini che allora lì c'è un torrente proprio lì dove abbiamo visto il boschetto c'è un torrente corradino di svevia aveva alle spalle il canale il fiume il fiume e davanti aveva schierato il l'esercito dei dangiò no no peggio hanno fatto perché in pratica una parte dell'esercito di carlo d'angio fece tutto un giro largo e lo accerchiò dopodiché ha finto ha finto di ritirarsi gli angioini hanno finto di ritirarsi e hanno portato allo scoperto le truppe di svevo degli svevi che si sono trovati il resto dell'esercito alle spalle e sono stati praticamente in poco tempo massacrata perché sono dimenticato il play può ripetere hanno riportato che sta schiacciante sconfitta loro vittoria gli angioini si sono presi il regno di napoli come lo ammazzano adesso se gli hanno tagliato la testa può darsi insomma lo hanno incarcerato a napoli ma dopo poco tempo lo hanno ucciso che poi guarda che gli italiani alla fine lui di bellino antipontificio alla fine gli italiani lo lo ammiravano quando si racconta le cronache del tempo descrivono questa discesa dell'esercito di corradino dalla toscana dall'emilia toscana l'umbria era un tripudio di festeggiamenti quello salutavano come un liberatore però qui a scagliato i piani valentini questo non c'entra ancora con la pianura di alzano che la vediamo appena dietro di là vedete appena dietro lì ci sarà la pianura di alzano ma ci abbiamo modo e tempo per ammirarla e questo è il velino si può salire il velino dal costone una cresta la cresta tra le due valli tra il velino e il caffornia c'è una valle e a sinistra c'è una cresta bene ragazzi continuiamo a seguirci perché la prossima puntata parliamo di sesso va bene alla prossima ed eccoci qui ad alba fucens città romana quarto secolo allora Marco io direi andiamo su a san pietro e facciamo il giro delle mure in bicicletta bellissimo così lo pigliamo da dietro ok entriamo proprio con le bici ok questa è una colonia romana creata dal nulla 6.000 coloni ci misero siamo nel 310 avanti cristo quella strada bianca che vedete lì è la via Valeria Flacca che arrivava fino a qui era un avamposto qui finiva il mondo romano in quell'epoca e quella parte lì che sembrano tutte regolari sono tutte taverne quella è la via dei pilastri perché sono quei tre pilastri in fondo ha dato il nome è una strada sono le vie principali della colonia romana vi dovete immaginare che qui da qui in giù era Roma da qui in avanti era il sannio era l'abruzzo selvatico e Roma costruì proprio non si sa se arrivò prima la colonia o la strada in realtà la strada era una strada militare quindi via via che costruivano questa strada Valeria che era la Tiburtina Tiburtina da Tibur e Tivoli prima arrivava fino a Tivoli poi l'hanno proseguita la strada serviva proprio come per la logistica per portare gli approvvigionamenti per gli eserciti romani quindi via via che invadevano il territorio costruivano la strada e fondavano colonie Carzoli era un'altra colonia fondata poco prima questa alba è del 6.000 persone c'ha tutto e noi adesso facciamo il giro delle mura vediamo se è aperta questa chiesa romanica che è qualcosa di eccezionale e poi se non ci menano magari andiamo con le bici a mano ci vediamo un po' e che ci frega? vai 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 ... ... ... ... Questo era un tempio, probabilmente un tempio dedicato ad Apollo, vedi il passamento antico, sopra ci hanno costruito la chiesa romanta, tutta distrutta, poi rimessa su nel terremoto del 15. Andiamo, facciamo il giro di qua e poi... Il programma è sfidante oggi. Mi fa paura questo. Il programma è sfidante? Andiamo, andiamo, qui manca Alberto Ange. Ah, che spettacolo, ma questo era proprio un affiteatro più piccolino di quello che eravamo a Siracusa, però... Terzo, quasi quarto secolo avanti Cristo, vedi lì c'è l'ingresso. Sai che secondo me si riprende pure dall'asse, perché se lì la gente entra da là, quindi andando più avanti si riprende. Tadà! 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 Vabbè! Hai papà? Tadà! 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 Luca è fido male perché lì è chiuso, quindi se è Abbie torna indietro e entra qua. Aspetta, faccio una foto al Barbaro, fermati, fermati, fermati. Cioè, qui sotto ci stanno ancora ville, non hanno scavato, vedi, si sono fermati lì. Chi cazzo l'ha fatto il primo scavo di questo qua, i Belgi, negli anni 50? Allucinante. Dopo sono finiti, qui hanno cominciato ultimamente a scavare, vedi questa pettoria? Sì. Cioè, una villa a riscontraria. Ma quindi ci saranno anche i ritrovamenti di oro, giuglielli, vasellani. Vabbè, bisogna vedere se non c'è stato prima dei pretati, sì. Io lascerei le bici qua. Aspetta che lo ripeto. Allora, questa che vedete è la Tiburtina, ragazzi. La Valeria Flacca, dico bene? La Valeria Flacca, sì. Incredibile, ragazzi. Andiamo nel Tempio di Ercole. Ecco, andiamo nel Tempio di Ercole. Sì. Questo mi pare come quelli copioni che sentono le cose da una e le dicono. Sì, è logico, è logico. Non lo guarda dagli altri. Capito? Ebbè, per far capire a delle spettatori. No, perché c'è un microfono qua. Non so se... ...e' scopita nel Museo di Chieti. Questa era proprio la cella del centro dedicato a Ercole. E qui c'era un enorme portile. L'Oriente Antile, con queste colonne smuzzicate che girano tutte intorno. Era un enorme portile, porticato, quindi aperto al centro, in ombra, tutto intorno, dove i romani amavano partigliare. Noi, perché abbiamo fatto una deviazione, non siamo passati dalla strada asfaltata, dove avremmo visto l'acquedotto. Qui prendeva l'acqua direttamente dalle pendici del velino. C'era un signor acquedotto, adesso fra poco le terme. Questa era una delle tante vasche pubbliche che venivano offerte per la gente, perché l'acqua in abitazione c'era solo nelle ville aristocratiche. Guardate, signori, qua ci sono ancora il piombo fuso che unisce le tavole tra di loro. Attenzione. Vedi? Questo è il piombo. Il piombo fuso. Ebbè, il piombo che serviva. Sì, sì. Se tu vedi le colonne... Anche qua. Pronti? Certo. Adesso ti faccio vedere le colonne. Queste sono le strisce pedonali romane, vedi? Siccome la strada era piena di fango, di merda, per attraversare... No, ovviamente. Sì, certo. Senti, qua siamo in mezzo... Cioè, queste qua non è che hanno messo a far andare... No, queste sono antiche romane, questa è proprio la gente, attraversava lì. Pronto? Perché stasera quando c'era l'acqua e c'era, ovviamente avendo questi rialzi diventavano acquitinio. Questi erano i marciapiedi. Guarda che erano organizzati con i marciapiedi. Incredibile. E qui, ma ce ne sono anche esempi... Sì, sì, sì. Servivano proprio per attraversare. Bellissimo. Andiamo, andiamo. La taverna. In fondo poi ci sarà una tavola calma da vedere. Come sapete, gli antichi romani, i commercianti, in generale, avevano, facevano casa e bottega, quindi le taverne erano con il soffitto molto alto, nel retro c'erano come dei soppalti dove i commercianti dormivano e vivevano. Cioè, praticamente stiamo sempre al chiodo, un po' come i cinesi attualmente. Se tu fai attenzione, ma avanti ne vediamo ancora migliori. Si vedono proprio l'intaglio perché così tiravano giù una sorta di saracinesca in legno per chiudere la bottega. Un po' come i cinesi adesso, casa bottega. Lì hanno coperto, vedi, pure là. Sono messi lì sì. Ecco qua il pavimento tipico di una terma. Questo era il locale caldo. Un che bello. Caldario. Perché vedete queste sospensure si chiamano, queste colonnette, queste sono alcune di restauro, tenevano sollevato il pavimento del locale, sotto correva l'aria calda arroventata dai forni che stavano da quella parte lì. Quindi queste terme erano tutte praticamente con un'intercapedine sotterranea dove correva l'aria calda per riscaldare i vari locali. Beh, faceva molto freddo qui, certamente, però in ogni caso questo era perché era il locale caldo delle terme. Poi qui intorno si capisce poco, ci sono gli altri vari locali. Ovviamente sono terme senza la forma tipica e canonizzata qui, tipica di Ecleziano, di Caracalla. Non erano desboscate. Ecleziano, di Caracalla. Ecleziano, di Caracalla. Ecleziano, di Caracalla. No, non dobbiamo arrivare a Urtuna. Tre giorni, tranquilli, chi ci ammazza. Che spettacolo Antonio! Avete visto quella mucca morta? che spettacolo Antonio! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un cerpiatto. Cazzarola. Ma mi è passato a un... Chi era? Due metri? Forte cinque. Mamma, il terroiroso. Eccoci all'ingresso di Fontecchio, dove finisce questa prima tappa di oltre... Ah, saremo quasi a 80 chilometri alla fine e vediamo un po'... Oh, bene. 1.800-1.900 di Srivello. Beh, interessante, insomma. E niente, adesso ci andiamo a rinfrescare. Stasera ci aspetta la cucina abruzzese. E poi domani... La seconda tappa. La rossa. Eccoci qua, guardate che bello questo... Burgo medievale. Guardate che fontana. No, no, la fontana... La fontana merita. Eh, ragazzi, la fontana merita, merita. Io mi fermo a fare una foto. Eh, sì. Ragazzi, ci fermiamo e facciamo una foto a questa stupenda fontana. Eh, ragazzi, io sono ignorante e qui dico... Fontana 1300 è uno dei esempi più belli di fonti monumentali di tutta Italia. Con simboli matematici e religiosi che adesso andremo a vedere. Eh... Porto signoranti nella cultura. Eh, eh, andiamo, no? Eh... Do stanno? Do stanno i simboli matematici e religiosi? Come no, ciccio? Guarda che bello qui, eh. E quella è la Madonna dell'uccellino. Dell'uccelletto. Perché effettivamente... Ce l'è stato un uccellino a qualche parte, che dici? E' l'unica? No, ciccio? E' l'unica? No, ciccio? La cazza? No, ciccio?